Ehi tu che stai guardando questo video non fare proprio il no skin della situazione perché lo so che vai nel negozio oggetti a scioppazzare come un matto infatti da oggi se ti va puoi supportarmi come creatore cliccando in basso a destra supporto un creatore hyper legit tutto minuscolo tutto minuscolo e uguale una volta inserito il mio codice clicca su accetta ed il gioco è fatto grazie mille a tutti quelli che lo faranno vi lascio al video buona visione bello a tutti ragazzi in questo video di fortnite oggi andiamo a scoprire dove si trova il fort byte numero 64 e ho notato che in giro tra live di altri streamer tra il mondo di internet eccetera ci sono molte persone che si domandano come fare per vedere i passi dei nemici i rumori delle cest e robe varie su pc oppure su ps4 e dopo andiamo a spiegare anche questo ora andiamo a vedere dove si trova il fort byte numero 64 che dice di andare su una montagna stunt con rocks lo faccio vedere subito eccolo qua ci si vedrà tramite rocks in cima a un monte stunt ok ora io metto pronto e faccio vedere dove si trova ragazzi ok allora parlando tipo del fatto dei passi come potete vedere ragazzi io sono in partita in pre lobby ci sono tipo vedete si vedono gli spari ci sono le persone attorno a me che appunto sparano camminano fanno cose eccetera e si vedono i passi dopo vi faccio vedere anche questa modalità come fare per metterla alla fine è una questione di gioco che ha sia ps4 pc eccetera un po rubata da mobile però va bene allora il monte in questione dove dovete andare per il fort byte è questo raga dovete andarci con rocks mi raccomando raga fondamentale andare con rocks stanno buttando già un po' di persone però va bene allora vediamo subito noi per primi perché c'è pure una cassa teoricamente la sopra a fini che se la prendono e ci ammazzo non ci fanno prendere nemmeno il fort batte dopo a fini che ci incavoliamo giustamente però vabbè bellissimo il mio dettaglio del pollo tra questi tre alberi ragazzi si trova eh questi tre alberi proprio davanti a me io prendo subito la cassa raga perché non so mai sapere come potete vedere siete pure tipo laccata di dove esce la cassa il fort byte è qua ragazzi accessibile tram di rocks in cima a un monte stand ce lo prendiamo e siamo a posto fine ragazzi completato preso il fort byte però prima di staccare andate su impostazioni per mettere come vedere i passi e andate su accessibilità visualizzate effetti sonori si e vi usciranno tutti i passi tutte le chest che ci saranno nei vostri dintorni non lo so qualcuno sta spaccando un albero una macchina un qualsiasi struttura vedete tutti i passi ragazzi tutti i passi tutti i movimenti dei nemici e quant'altro ok questo è il quanto questo il video del fort byte ragazzi questo è come mettere i passi su fortnite io vi ricordo sempre che se il video vi fosse stato aiuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale se vi va condividete anche il video con i vostri amici ci vediamo in live oggi alle 17.30 penso di fare server privati per chi ha visto questo video vi aspetto in live mi raccomando lasciate un bel like bella boys ciao